L'era della pizza, capitanata dal mitico Matteo Sanna, pizzaiolo vincitore di numerosi premi, vi ricorda le sue pizze assolutamente uniche. Oltre 30 tipi di impasti adatti a tutte le esigenze, a lievitazione naturale, con rinomate farine di tipo 1 e soprattutto super gustose. Vieni a scoprire le nostre pizze artistiche e quelle giganti in pizzeria, alli punti o a domicilio.